Opere bellissime, davvero importanti, di varie dimensioni, di vari formati, di vari stili che accontentano un po' una platea importante di pubblico, quindi sono fiducioso che gli aretini sapranno dare il loro contributo come sempre fanno per la nostra realtà. Le auto e le moto, ma anche le luci e i riflessi in tutte le loro manifestazioni sono le opere dell'artista milanese, ma ormai aretina d'adozione, Mauro Giussani in esposizione nell'atrio d'onore della provincia di Arezzo in via Ricasoli. Tutto il ricavato dell'esposizione andrà in favore di Casa Tevenin, l'istituto che accoglie bambini con problemi familiari e difficoltà scolastiche e ragazze madri in situazioni di disagio. Grazie alla generosità e alla bravura poi dell'artista, la signora Mauro Giussani, nell'atrio d'onore della provincia da mercoledì 1 giugno fino a domenica 5 giugno ci sarà un'esposizione di opere d'arte il cui ricavato andrà interamente a Casa Tevenin. Quindi un grazie all'artista e un grazie alla provincia di Arezzo per averci concesso gratuitamente l'uso dell'atrio d'onore. Si tratta di una sorta di prologo a quella che sarà la presentazione dei prodotti solidari con il marchio Gocce D.